Il mercato sta per entrare nel vivo e l'Avellino deve trovare le giuste pedine per rinforzare una rosa che purtroppo ha mostrato forti carenze strutturali e di personalità. I lupi puntano ad entrare nei primi cinque posti ma ad oggi i risultati non sono dalla parte dei bianco-verdi che hanno ottenuto la maggior parte dei punti contro le piccole e sono caduti contro le cosiddette grandi. Ecco perché Salvatore di Somma deve porre rimedi agli errori fatti. Si sono intensificati i contatti con l'entourage di Julian Illanes per riportare il calciatore all'ombra del Partenio. A quanto pare la trattativa per il centrale argentino ora al Chievo e di proprietà della Fiorentina pare essere in via di definizione. Un suo rientro in maglia bianco-verde dopo l'esperienza dello scorso anno si fa sempre più probabile. Nel frattempo da Perugia rimbalza una voce relativa a Salvatore Monaco. Anche lui centrale difensivo classe 1992 ha giocato anche con Braia, Cosenza, Arezzo e Grosseto, le altre formazioni di cui il giocatore partenopeo ha indossato la maglia. Ai nomi di Mirko Bruccini e Andrea Cittadino per la linea mediana si è aggiunto quello di Francesco Giorno del Monopoli, 13 presenze e un assist quest'anno. Ex Parma in Cia ha giocato anche con Casertana, Modena, Vicenza e Monza. Per lui 144 presenze e 5 gol tra i professionisti. Si continua nel frattempo anche a seguire l'evolversi della situazione in casa Ascoli per l'esterno offensivo Cosimo Chiricò.